Ieri una signora lamentava che muovendosi in bicicletta e dovendo da Borgo recarsi in centro storico per lavoro due volte al giorno ed essendo il ponte di Santa Maria apparentemente terminato, cominciava a ritenere ingiusto dover percorrere tutto l'isolato della tombola, impiegandoci molto più tempo del necessario e inutilmente a quanto le sembrava. Si è parlato di luci non omologate a impedire l'apertura, delle quali si è inattesa e si è supposto che ci siano altri progetti per la careggiata ovest, quella chiusa. Intanto i New Jersey stazionano sul ponte e le bici lo percorrono in contromano e non solo dal lato dove le auto non passano ma soprattutto dove le auto circolano, diventando un pericolo per se stessi e per gli altri e coloro che finora hanno rispettato cartaglie di vieti cominciano a utilizzare anch'essi il marciapiede come ciclabile, costringendo i passanti a fermarsi per farli passare o a continuare in mezzo alla strada. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.